Lo ucciderò, se tu vuoi lo ucciderò, vedi con te, tu questa notte, questa notte è come stato qualcosa di veramente straordinario, la brutalità di tuo padre, l'ambizione di Freely, la stessa crudeltà di Martin, non sono assolutamente nulla a confronto di quello che tu adesso possiedi, l'odio con te, tu possiedi l'odio, un odio giovane, puro, assoluto, ma sta andando, questo potenziale di energia e furore è troppo importante per farne la ragione di una personale vendetta, sarebbe un lusso, uno spreco inutile, per distruggere Friedrich e basti il semplice mondo non serve, tu verrai con me, noi ti insegneremo ad amministrare questa tua immensa ricchezza, ad investirla nel modo giusto, tu hai capito, non è vero, vieni, vieni, vieni. Kei 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 tells Per 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 ... Part Grazie a tutti. 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 It's trending. It's trending. We're moving. South Asia. It won't come. It's trending. We're losing. Salvation. It's trending. We're losing. 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 si è stato stato fatto si è stato liberato e si è stato in un aca in un telefono assicurato 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 FUNпов få Non piccola noia Que non pensez più a questo Oh no Qui ne ha Quazi automaticamente Corriere Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.